Buona domenica e ben ritrovati all'edizione in diretta del Tg regionale di Antenna Sud. Hanno aperto regolarmente stamane alle ore 7 i seggi per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. I seggi chiuderanno questa sera alle 23. Subito dopo, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, avrà inizio lo scrutinio cominciando dallo spoglio delle schede per quanto riguarda l'elezione del Senato e poi si passerà all'elezione per quanto riguarda la Camera. Alle elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, alle ore 12, ha votato il 19,09% degli aventi diritto. Lo si rileva dal sito del Ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018, alla stessa ora, si era recato alle urne il 19,18% degli elettori. Per l'affluenza in Puglia, invece, in base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno, è stata alle ore 12 pari al 16,80%. Nelle precedenti elezioni l'affluenza era stata del 17,54%. E vi ricordo che Antenna Sud seguirà le operazioni di scrutinio a partire oggi, questa sera, dalle 22,45 con una speciale maratona elettorale. Urne aperte in Puglia per eleggere circa 27 deputati e 13 senatori. Il nostro servizio. Anche il governatore regionale pugliese, Michele Emiliano, si è recato al seggio per il voto, allestito nell'Istituto Vivante di Bari. Sono in tutto più di 3,2 milioni pugliesi chiamati al voto per eleggere 40 parlamentari. I deputati da eleggere nella regione sono 27, dei quali 10 nei collegi uninominali e 17 in quelli plurinominali, mentre sono 13 i senatori, 5 uninominali e 8 plurinominali. Le sezioni aperte in tutta la regione sono 4.028. Quest'anno, inoltre, c'è la novità del tagliando antifrode sulle schede di Camera e Senato. Gli elettori non potranno inserire le schede direttamente nell'urna, ma dopo aver votato le dovranno dare al presidente che staccherà la parte in fondo alla scheda col tagliando per poi inserirle nell'urna. Voglio augurare buon voto a tutti i pugliesi e a tutti gli italiani. Bisogna andare a votare, questo è importantissimo, perché è una conquista di democrazia che va manutenuta con andare a votare. E dopodiché domani avremo tutta la settimana per fare tutti i commenti, perché oggi, come è noto, non si può dire una parola di più. Il primo dato delle elezioni politiche 2022 è quello dell'affluenza parziale alle urne, aperte questa mattina. Alle ore 13.30 il dato attestante è l'affluenza alle urne in provincia di Lecce e del 19,7% degli elettori andati a votare, dato in aggiornamento un elemento fondamentale, quello della partecipazione al voto, che ha tenuto banco nel corso di tutta la campagna elettorale e che potrebbe cambiare in maniera radicale l'esito delle competizioni elettorali. Il precedente da considerare è quello del 4 marzo 2018, quando alle ore 13.30 si era recato alle urne il 22,40% degli italiani. Nel corso della giornata arriveranno altre due rivelazioni dell'affluenza al voto, la prima alle ore 19, ancora parziale, e poi alle 23, quando il dato sarà definitivo. Intanto a Lecce, già dalle prime ore, i big della politica, senatori e candidati, si sono recati nei propri seggi per dare il proprio personale contributo a questa competizione elettorale ed ecco consiglieri comunali e assessori regionali, candidati di destra e di sinistra, alternarsi nelle varie scuole. E voto regolare a Taranto e senza problemi di sorta, come ci dichiara ad Antenna Sud il prefetto Demetrio Martino. Tutto regolare e una discreta affluenza già nelle prime ore di apertura dei seggi. Il voto a Taranto è cominciato regolarmente senza problemi di sorta. Anche per i presidenti di seggio non si sono verificate defezioni, era stato approntato comunque l'elenco di riserva per affrontare eventuali problemi. Ne abbiamo parlato con il prefetto di Taranto Demetrio Martino, che si è recato a votare nel corso della mattinata. Sia le operazioni propedeutiche al voto, sia quelle effettivamente di voto che sono iniziate stamattina regolarmente in tutti i seggi della provincia. E cogliamo questo momento anche per invitare tutti coloro che non l'hanno ancora fatto di regarsi presso i propri seggi per esprimere quello che è il principale esercizio di democrazia, cioè il voto verso i nostri rappresentanti. Per cui anche sotto l'aspetto delle normative anti-Covid siamo assolutamente allineati. Tutto funziona regolarmente, quindi non ci sono problemi a regarsi alle urne per esprimere le proprie preferenze. Questo è l'invito che rivolgiamo. Noi siamo come istituzione, come prefettura, ovviamente monitoriamo l'andamento delle votazioni e come sempre raccoglieremo il riepilogo dei voti sezione per sezione e poi lo inseriremo nel database del Ministero per renderlo fruibile a chiunque a partire chiaramente dalle 23 di stasera e poi via via man mano che i risultati saranno chiaramente disponibili. Quindi buon voto a tutti! E lasciamo la pagina elettorale, cambiamo argomento. Non rimaniamo indifferenti davanti ad ingiustizie e soprusi. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa Matera che chiude il congresso eucaristico nazionale della CEI, trasmesso in diretta da Antena Sud. Non rimaniamo indifferenti davanti ad ingiustizie e soprusi. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa Matera che chiude il congresso eucaristico nazionale della CEI, trasmesso in diretta da Antena Sud. La visita pastorale giunge a conclusione del 27esimo congresso della CEI, la conferenza dei vescovi italiani. Dal titolo Torniamo al gusto del pane. Circa 800 delegati di 166 diocesi italiane, insieme a circa 80 vescovi, per condividere quattro giorni di preghiera, riflessione e confronto sulla centralità dell'eucaristia nella vita del cristiano ma anche della comunità. Presenti anche i partecipanti dalle adiogisi di Gravina, Altamura e Acquaviva delle Fonti. Il pontefice ha poi sottolineato che la presenza di Gesù, che ci chiede di impegnarci per chi accade un'effettiva conversione, dall'indifferenza alla compassione, dallo spreco alla condivisione, dall'egoismo all'amore, dall'individualismo alla fraternità. Papa Bergoglio è il secondo pontefice in circa 30 anni a Matera. Il 27 aprile del 1991 tenne una visita pastorale Papa Giovanni Paolo II. Nello stadio da attenderlo circa 12.000 persone. L'arrivo a Matera ha subito una variazione nel programma a causa del maltempo a Roma. Il Papa è partito dall'aeroporto di Ciampino ed è arrivato a Gioio del Colle prima del trasferimento a Matera. E cambiamo ancora argomento. Un 46enne di San Michele Salentino è morto dopo essere stato investito da un'automobile mentre era in sella la sua bicicletta. È accaduto questa mattina tra Ostuni e San Michele Salentino. Con il corpo senza vita ancora riverso a terra sono stati tanti ciclisti di passaggio che tra rabbia e dolore hanno commentato l'ennesimo e tragico incidente mortale registrato su una delle strade provinciali del Brindisino più popolata dalle biciclette specie nei giorni festivi. L'impatto tra una Fiat Bravo di colore grigio e la sua bicicletta non ha lasciato scampo al 46enne di San Michele Salentino Patrizio Tetesi che in sella la due ruote per causa e responsabilità tutte da accertare è stato travolto dall'auto condotta da un 22enne nel tratto che dal piccolo centro messapico conduce verso la costa ad Ostuni e Carovigno. Ancora sangue sulle strade del Salento. Ancora una volta la vittima è in un ciclista troppo violento l'impatto con la Fiat che ha poi fermato la sua corsa allertando subito i soccorsi. Eppure nulla hanno potuto fare gli operatori del 118. I rilievi del caso sono stati invece affidati alla polizia stradale di Fasano al comando dell'ispettore Stefano Valentini e allora quella rabbia mostrata si trasforma subito e solo in dolore e atrocia per un'altra tragedia, per un altro tragico incidente sulle strade provinciali. E comincia a prendere forma l'edizione 2022 della Fiera del Levante. L'edizione 2022 della Fiera del Levante comincia a prendere forma la campionaria slitta ad ottobre rinunciando alla tradizionale finestra settembrina a causa campagna elettorale. In riparte fanno sapere gli organizzatori dalle aree strategiche per lo sviluppo della regione. Ad esempio Mani Futura, iniziativa organizzata da Union Camere, Nuova Fiera del Levante, A di Puglia e Basilicata, l'Associazione per il Disegno Industriale. Mostra esibizioni workshop organizzati in quello che per nove giorni diventa il Salone del Design del Mediterraneo. Il Padiglione 110, peraltro, si candida nelle intenzioni a diventare un salone permanente, attivo tutto l'anno, dedicato alle aziende che abbiano la necessità di comunicare, oltre che di vendere, i prodotti di design. Stesso approccio di design to business. Nel centro congressi sarà allestita nel blu dipinto di blu, già esposta nel padiglione italiano all'Expo di Dubai dal 20 al 31 marzo scorso. Il padiglione 19 sarà invece quello dell'agroalimentare, nel quale valorizzare i prodotti enogastronomici pugliesi di eccellenza, confermata la Galleria delle Nazioni, punto fermo, con una rappresentanza stimata stavolta da circa 20 paesi diversi, pronta ad accogliere i visitatori. E poi il salone dell'arredamento, l'edilizia outdoor, shopping e automotive, appuntamento confermato dal 15 al 23 del decimo mese dell'anno. E sbarco di migranti ad Otranto questa mattina. Un'imbarcazione a vela con circa 100 migranti è stata avvistata questa mattina intorno alle 7 a largo di Porto Migiano, sulla costa di Torontina, dal reparto eronavale della Guardia di Finanza. Una volta giunta al porto si è accertata la presenza di 93 persone, tutte di sesso maschile, 10 delle quali i minorenni non accompagnati, originari del Pakistan, tutti in buone condizioni di salute. Dopo le procedure di identificazione e dopo il soccorso prestato dai volontari della Croce Rossa italiana, i migranti sono stati accompagnati nel centro di prima accoglienza d'Ontonino Bello di Otranto e poi trasferiti in quello di Masseria Ghermi a Lecce, eccetto i 10 minorenni. E si presentava come sensitivo e guaritore, riceveva i clienti nello scantinato del suo negozio a Mesagna. Aveva una media di 4 o 5 consulti al giorno che effettuava nello scantinato del suo negozio nel centro di Mesagna. Un commerciante settenne è indagato dalla polizia per il reato di esercizio abusivo di professione. Un avviso di conclusione delle indagini preliminari e la contestuale informazione di garanzia emessi dalla Procura di Brindisi sono stati notificati dagli agenti del locale commissariato. L'inchiesta era partita dopo alcune segnalazioni giunte alla polizia e confermate da post pubblicati sulla sua pagina social con cui il commerciante pubblicizzava la propria attività di sensitivo e guaritore. Gli investigatori su autorizzazione della magistratura hanno collocato una videocamera con la quale per settimane è stato registrato il flusso continuo di persone provenienti non solo da Mesagne ma anche dal resto del Brindisino e da province vicine che non entravano nel negozio per acquistare prodotti ma per incontrare il sedicente guaritore nel piccolo studio che si era ricavato nel sottoscalla del magazzino. Secondo quanto dichiarato da alcuni dei clienti poi interrogati dalla polizia il commerciante leggeva le carte e consegnava piccoli amuleti che a suo dire avevano potenti proprietà curative in quanto al pagamento i clienti hanno parlato genericamente di offerte e non di un tariffario specifico. L'uomo praticando la cartomanzia e affiancandola alle previsioni astrologiche e alle premonizioni secondo quanto emerso dalle indagini degli uomini del commissariato avrebbe svolto abusivamente atti tipici della professione di psicologo e psicoterapeuta che secondo normativa sono riservati agli iscritti a relativo albo che abbiano conseguito l'abilitazione dopo la laurea in medicina o in psicologia e i corsi di specializzazione per questo nei suoi confronti è scattata la denuncia. E ancora cronaca due incendi nella notte hanno interessato il sud Salento a Taviano a fuoco l'auto di un maresciallo dei Carabinieri. A fuoco nella notte l'auto del maresciallo della stazione dei Carabinieri di Racale l'incendio è avvenuto a Taviano e ha riguardato un SUV Fiat Fremont affidato ad un tecnico per delle riparazioni e parcheggiato all'esterno dell'abitazione di quest'ultimo intorno alle 3 sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Casarano al vaglio le indagini finalizzate a risalire alle cause dell'incendio che ha completamente disintegrato la carrozzeria ma non è l'unico episodio poco prima della mezzanotte a pochi chilometri di distanza a Racale, lungo corso Garibaldi è stato interessato dalle fiamme il portone d'ingresso del Beauty Center Glenda non è escluso che più informazioni sulla vicenda possono arrivare dalla visione dei filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. I colloqui tra bene e male un confronto e dibattito a Martina Franca L'etterna lotta tra bene e male e la ricerca di una morale universale e lo sforzo dell'individuo verso il bene sono stati al centro della non-edizione dei colloqui di Martina Franca che ha chiuso il triennio dedicato alle mutazioni la manifestazione ha visto alternarsi al microfono un gruppo variegato di relatori che hanno simulato al dibattito i partecipanti un centinaio tra imprenditori professionisti e studenti da tutta la Puglia tra loro Marco Morganti coordinatore della direzione Impact del gruppo Intesa San Paolo e Eugenia Pontassuglia procuratore capo di Taranto Vito Alfieri Fontana ex fabbricante di mine anti-uomo poi per vent'anni impegnato a sminare la Bosnia L'evento ideato e organizzato da Costellazione Apulia e sostenuto dal comune di Martina Franca dal club cultura di Confindustria Apulia da Confindustria Taranto e dalla camera di commercio di Taranto si è svolto per il terzo anno presso la regia stazione Ippica di Martina Come consorzio di imprenditori ci ritroviamo tutti i giorni a prendere decisioni che possono impattare nel breve e nel lungo termine in questo contesto dove spesso i valori le visioni, gli scenari vengono messi in discussione diciamo che sentiamo la necessità di prendere consapevolezza nel lungo termine di quali sono le scelte che possono essere giuste o sbagliate È un appuntamento, una due giorni secondo me di grandissimo interesse che dobbiamo assolutamente portare in maniera diretta nelle scuole anche perché sono fermamente convinto del fatto che i nostri studenti siano i cittadini di domani quindi hanno la necessità di avere delle basi delle direttive, delle coordinate entro le quali muoversi Ed ora incontri dibattiti sul bullismo nel Salento La frase che sarà caratteristica di quest'anno scolastico è non la scendono nessuno quindi aiutare bulli e vittime a far comprendere che non sono loro sbagliati che in realtà il bullismo non è una pena o un mezzo con cui fare ma è semplicemente un atto pratico con il quale si dimostra che esiste un problema e come ben sappiamo i problemi si possono risolvere e sono fatti per essere risolti I ragazzi di Ma Basta il movimento antibullismo animato da studenti e adolescenti nato a febbraio 2016 per volontà di alcuni giovani dell'Istituto Galilei Costa di Lecce sono pronti a portare anche in questo nuovo anno scolastico il loro importante messaggio per prevenire e contrastare il bullismo Molte le adesioni da parte dagli istituti già 300 saranno quelli raggiunti tra ottobre e novembre non solo in Puglia ma anche in altre regioni dalla Sicilia fino alla Lombardia Tra ottobre abbiamo la prima tappa che è Taranto dove andiamo appunto in tre classi a Taranto per parlare anche solo semplicemente con i ragazzi e raccontare loro che esistono delle azioni concrete con le quali si possono prevenire contrastare e debullizzare ogni forma di bullismo e saperbullismo all'interno delle classi c'è stato questo miscurio di scuole in cui eravamo già stati dove dobbiamo appunto riandare e scuole invece nuove che abbiamo contattato noi o che semplicemente ci hanno contattato perché ci hanno visto perché ci hanno sentito devo dire che è molto bello perché vuol dire che il nostro periodo funziona se le scuole dell'anno scorso ci richiamano anche semplicemente per fare una classe perché è la nuova prima presente in quella scuola beh devo dire che allora qualcosa funziona la molla nei ragazzi scatta e gli adulti lo vedono E presso il Museo Ribezi di Brindisi giornate dedicate al patrimonio La sostenibilità energetica al centro della giornata europea del patrimonio promossa a Brindisi dal Museo Provinciale Ribezzo la riscoperta dell'illuminazione nei tempi antichi che diventa un tema di grande attualità con la valorazione del passato in una giornata dedicata all'enorme patrimonio europeo di cui il Museo Brindisi è testimone dai suoi reperti e con i piccoli studenti che con un laboratorio didattico hanno potuto ricreare le antiche lucerne Per le giornate europee del patrimonio europeo il Museo Ribezzo diretto dall'architetto Emilia Marnozzi propone un laboratorio alquanto inedito dal titolo Cultura rurale valore del passato per un presente sostenibile E' proprio nel giardino del museo che i ragazzi tra le piante aromatiche coltivate da studenti delle scuole di una scuola professionale esattamente della scuola profeta individueranno la pianta della ballota che è una pianta che produce lo stoppino realizzata per poter alimentare tutte le forme di illuminazione del passato e in particolare delle lucerne cercheremo così di evidenziare con il recupero delle antiche forme di illuminazione l'importanza di soluzioni alternative per la sostenibilità ambientale E' un fine settimana caratterizzato dal rischio allerta meteo gialla in Puglia Una vasta area di bassa pressione interessa l'Europa centro-settentrionale determinando intense correnti umide sud-occidentali in quota che attraversando il Mediterraneo centro-occidentale investono l'Italia centro-settentrionale ed anche parte del sud Allerta gialla in tutta la Puglia per rischio idrogeologico per temporale e vento dalle ore 8 di domenica 25 settembre e per le successive 12 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale con quantitativi cumulati da moderati appuntualmente elevati dai solati a sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centrale con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati 20 forti medidionali con locali raffiche di burrasca sulla Puglia e su tutti i settori adriatici Allerta gialla anche per Abruzzo Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Marche Molise Toscana Umbria Liguria Veneto e Sardegna E vi ricordo l'appuntamento di questa sera Antena Sud seguirà le operazioni di scrutinio delle elezioni politiche a partire dalle ore 22.45 con una speciale maratona elettorale commenti e risultati dalle province della Puglia Ed ora focus sul calcio con servizi sulle nostre formazioni pugliesi impegnate ieri nel campionato di Serie C oltre ad un servizio sull'amichevole dell'Epicasa Brindisi nel test vinto contro Scafati E questo è tutto vi lascio alle notizie sportive l'ampia pagina di sport è tutto buona domenica questo missile di Montini a 8 minuti dalla fine regala al Monopoli il terzo successo consecutivo in casa e scaccia i fantasmi dopo la sconfitta di Castellammare la terza lascia fuori Simeri per Fell la pazienza torna al 4-3-3 con negli Amalcore a Scicchi in attacco in cronaca primo squillo Cerignola al 33esimo quando Malcore pesca Nocchi fuori dai pali e prova a sorprenderlo mancando di qualche centimetro il bersaglio nei due minuti successivi un'occasione a testa prima rolando calcia centrale da centro aria poi Malcore in acrobazia la spedisce alta al 36esimo Neglia di testa va vicinissimo al vantaggio su Cross di Ascicchi il suo tentativo sfiora il palo al 38esimo Saracco si salva così dopo un'azione avviata da starita a sinistra azione Cerignola al 40esimo punizione di Malcore respinta di Nocchi su cui Bianco spedisce alto il tap-in al sesto della ripresa la sblocca Derisio corner di Rolando e testa del centrocampista abruzzese che batte Saracco in colpevole pazienza inserisce D'Andrea e D'Ausilio e l'attaccante ex Foggia e Teramo lo premia trasformando in rete l'assist di Gioffre partito dalla sinistra partita a scacchi con la terza che fa entrare Simeri per starita e sposta Montini a sinistra e il risultato cambia grazie all'attaccante romano palla recuperata da Bussaglia Montini la raccoglie e fa esplodere il Venezianis scagliando questo missile in porta il Monopoli sale a nove punti in classifica e adesso a Picerno è chiamato a sbloccarsi anche in trasferta una serata da incubo sconfitto impotente e duramente contestato il Foggia cade allo Zaccheria contro un Pescara tanto propositivo quanto letale che sale in cattedra specialmente nella ripresa il match termina con un pesante 0-4 ed un Boscaglia decisamente sconsolato in cronaca 4-2-3-1 di partenza per i rossoneri in avanti Vutai viene preferito suogunseie ospiti col 4-3-2-1 ed un vivace Lescano al decimo prima occasione per gli uomini di Mister Colombo con De Sogus nobile reattivo sul tentativo ed è via in corner risponde al diciassettesimo Dursi con un tiro a giro dal limite palla alta di poco sulla traversa al quarantaduesimo il Pescara passa cross da destra in area di Cancellotti ottimo inserimento di Lescano che beffa nobile da pochi passi 0-1 nella ripresa entra Tonin al posto di Peralta infortunato ci si aspetta la reazione rossonera ma invece arriva il raddoppio a Bruzzese per l'esattezza al 54esimo ottimo dai e vai tra Lescano e Milani ottimo assist per il difensore che deposita la palla all'angolino nello scambio stretto 0-2 al 65esimo entrata scomposta di Di Pasquale su Cuppone Rosso e Dauni che restano in 10 va sempre peggio il Pescara è il pallino del gioco e dal 77esimo Cragia firma il Tris sfruttando un buon assist del nuovo entrato Tupta inserendosi al meglio colpo di grazia finale all'84esimo ci pensa Vergani dal limite a freddare con una conclusione a Gironobile ancora una volta i rossoneri sprofondano ora in zona play-out con soli 4 punti raccolti 3 gol fatti ed 11 incassati sconfitta tanto pesante quanto meritata la Gelbison mette a nudo tutti i limiti di un Taranto leggero e timido al Marcello Torre di Pagani campo neutro la squadra di Capuano non è mai entrata in partita gli avversari con impegno corsa intensità hanno sovrastato gli ionici apparsi arrendevoli deconcentrati il 3-5-2 di Capuano crolla dopo appena un quarto d'ora il gol del difensore Carnielluti su corner è un film già visto Gelbison 1 Taranto 0 ma la difesa rosso-blu è distratta i campani si impossessano della gara e il Taranto non reagisce nella ripresa si completa la pesante dolorosa sconfitta al quindicesimo il gol di Faella che anticipa tutti Vannucchi compreso e con un pallonetto deposita il pallone in rete per il 2-0 5 minuti più tardi il gol del 3-0 che di fatto chiude il match lo firma fornito con un euro-goal al 47esimo resta il rammarico ma soltanto quello a Tommasini per un palo pieno centrato al secondo dei 6 minuti di recupero un Taranto da rivedere nella mentalità e forse anche nell'atteggiamento atletico pesante meritata anche secondo il mio modo di interpretare la partita che cosa si porta a casa da questa debacle andando buonasera non c'è nulla da commentare è stata una prestazione inqualificabile chiedo scusa a chi ha fatto tanti chilometri ci ha seguito chi ci ha visto da casa siamo stati al limite della vergogna quindi io sono il primo responsabile perché sono l'allenatore non c'è nulla da commentare né dire il calcio d'angolo che avevamo preparato le marcature e quant'altro né dire che stavamo facendo un discreto primo tempo siamo stati letteralmente inguardabili facendo degli errori individuali clamorosi sbagliando tutto e penso che oggi abbiamo mortificato in maniera netta la maglia del Taranto io mi sono vergognato quindi non ci sono attenuanti è inutile trovare delle scusanti ecco forse dal punto di vista atletico la Giordia arrivava prima dappertutto c'erano sempre in raddoppio di marcatura hanno corso fino al 95esimo i nostri hanno passeggiato i nostri giocatori del Taranto hanno passeggiato un po' arrendevoli purtroppo questo non è stata solo in questa partita che abbiamo avuto questo problema però in altri abbiamo cercato di ottemperare attraverso la voglia attraverso l'abnegazione l'applicazione non dico nemmeno a livello tattico oggi ho visto delle cose inguardabili inqualificabili bambini che portavano palla in mezzo al campo uno che alzava la mano a destra perché non riceveva l'altro a sinistra ripeto c'è poco da commentare quattro calci già dopo cinque minuti Pierno chiede un calcio di rigore dopo un presunto tocco con il Bradiborri ma il direttore di gara non è dello stesso avviso Virtus ci prova al decimo dalla distanza con Carella che non trova però lo specchio della porta al diciassettesimo ci prova Pierno di prima intenzione con il mancino ma anche in questo caso conclude fuori il Monterosi risponde al ventesimo crossa dalla sinistra di cancellieri verde da due passi trova un impatto sporco con il pallone al ventisettesimo Risolo crossa con l'esterno provvidenziale la smanacciata di Alia lo sliding door del match arriva alla mezz'ora parlati di testa fa la sponda per Sant'Arpia che va giù in seguito ad un contatto con Idda calcio di rigore in favore del Monterosi che così come è accaduto il 10 aprile scorso a Viterbo apre le marcature dagli 11 metri con Bomber Rocco Costantino che spiazza Vella e porta i Laziali in vantaggio i biancazzurri reagiscono ed al 35esimo si rendono pericolosi con i Cubano pescato in aria da Carella nel primo e unico minuto di recupero assegnato prima dell'intervallo il Villa rischia grosso sugli sviluppi di un contropiede Avella compie una prodezza togliendo con il piede sinistro una palla destinata all'angolino basso al 13esimo della ripresa l'arbitro punisce una presunta trattenuta di Miceli su Costantino che porta a casa il secondo penalti di giornata in questo caso Avella battezza l'angolo giusto ma non basta per respingere la realizzazione pressoché perfetta del numero 9 che porta la contesa sul 2-0 Calabro prova a ribaltarla con i cambi al 20esimo il subentrato Maiorino mette subito in mezzo per Carella che viene travolto da Alia in uscita alta rigore anche per la Virtus qualche istante di esitazione per capire chi deve battere alla fine sul dischetto ci va Patierno che non sbaglia e accorce le distanze il quarto rigore di giornata viene fischiato al 75esimo dopo un fallo di Tartaglia su Ceciua dagli 11 metri ci va ancora Patierno che al secondo tentativo viene però ipnotizzato da Alia bravo a distendersi alla sua sinistra l'ultimo guizzo biancazzurro è Targato Murillo che al 40esimo di testa sfiora il primo palo seconda scoffitta esterna di fila per la Virtus che perde di rigore con il Monterosi tornando a casa a mani vuote Ancora rinviato l'appuntamento con la prima vittoria per la Fidelisandria appunto importante per il Picerno allo stadio degli Ulevi termina 1-1 e succede tutto nel primo tempo con il botte risposta grazie alle reti di Urso per i pugliesi e Golfo per i Lucani Cudini sceglie il 4-3-1-2 con Urso a supporto di Pavone e Scipos dall'altra parte Longo invece si affida al 4-3-3 con Reginaldo affiancato da Golfo e gli Urni per la prima occasione bisogna attendere solo 3 minuti con una conclusione di Paulini della Fidelis che viene bloccato in due tempi da Crespi dopo la prima emozione c'è da aspettare 30 minuti praticamente fino al gol di Urso sventagliata perfetta di Arrigoni per Fabriani che la rimetta al centro per Urso il numero 10 deve soltanto poggiarla in rete per l'1-0 al minuto 41 però c'è già il pareggio del Picerno Dalma si rinvia in maniera non perfetta sulla palla vagante si coordina perfettamente Golfo che batte Zamarion per l'1-1 complice anche una deviazione di Milillo negli ultimi minuti del primo tempo c'è spazio anche per un ultimissimo brivido targato Fidelisang Scipos a pochi passi dalla linea di porta si coordina ma non riesce a superare Crespi a riposo si va sul pareggio primi 15 minuti della ripresa senza grandi occasioni è al minuto 61 che Scipos va in gol ma il secondo assistente sventaglia la bandierina indicando il fuorigioco e strozzando l'urlo in gol al Degli Olivi al minuto 68 prova a coordinarsi sempre l'attaccante numero 9 con il tacco ma la palla termina a lato all'ottantunesimo Bolzius chiama Crespi alla parata con un tiro da fuori sulla respinta Candellori poi sbaglia tutto e alza la mira non si concretizzano gli assalti finali della Fidelis che forse avrebbe meritato qualcosina in più ma al Degli Olivi il risultato non si schioda dal pari e al triplice fischio è 1-1 tra Andrea e Picerno che fanno un altro piccolo passo in avanti in classifica prossimo impegno a Francavilla per gli uomini di Cudini mentre i Lucani affronteranno il monopoli al Donato Curcio Il Potenza interrompe la striscia di vittoria del Crotone che dalla Viviani acciufa un solo punto partita vivace che parte subito con un alto tasso di agonismo il primo cartellino giallo viene estratto infatti dopo nemmeno 60 secondi ai danni di Girond la prima occasione dei padroni di casa con Caturano che da fuori non inquadra la porta al trentesimo gli ospiti sbloccano il risultato con la rete imparabile di Gomez che chiude un contropiede battendo Gasparini sempre il numero 9 calabrese pericoloso a due minuti dal termine del primo tempo con un tiro che però finisce alto nella ripresa sono ancora gli ospiti a rendersi più pericolosi con il palo colpito al 49esimo da Vitale inizia la girandola dei cambi al 65esimo Matino ci prova da fuori e bravo Branduani anche sullo successivo colpo di testa di Del Pinto un minuto dopo ci prova Chirico che trova pronto Gasparini il potenza prova ad essere più incisivo e Siviglia mette dentro la quarta punta la gara si decide a due minuti dal novantesimo con Giron che perde la marcatura su Emmausso che la mette alle spalle di Branduani pareggio giusto per l'intensità del gioco messo in campo da entrambe le squadre alla potenza per sbloccarsi serve però necessariamente una vittoria il crotone per gioco e peso dei singoli si conferma una delle contendenti alla vittoria del campionato si chiude con una vittoria l'ultimo appuntamento di precampionato per la Epicasa Brindisi la formazione bianca-azzurra nella gara amichevole che si è disputata nel palavoettile di Martina Franca ha battuto la Givova Scafati 95-91 il coach Vitucci ha dovuto rinunciare a Dixon e De Tu mentre per i campani il tecnico Alessandro Rossi ha dovuto fare a meno del pivot Trevor Thompson la partita è stata abbastanza equilibrata con Scafati che solo nei primi 5 minuti è stata avanti poi per i restanti 35 è stata Brindisi a comandare 28-19 il punteggio a fine primo tempino 45-39 alla pausa lunga sempre in favore dei pugliesi che a fine terza frazione erano in vantaggio 68-61 6 uomini in doppia cifra tra i Brindisini Mascolo e Mezzanotte con 10 punti Capitan Barnell con 13 Bauman e Perkins con 16 e infine Reed con 18 per la Givova 3 uomini in doppia cifra Henry con 16 Pinkins con 17 e Lamb miglior marcatore della gara con 22 nel finale non è mancato il nervosismo quegli animi che si sono scaldati a farne le spese sono stati prima Stone per Scafati e poi Barnell per Brindisi espulsi dalla terna arbitrale al di là del risultato molta soddisfazione tra i dirigenti della New Basket Brindisi per il tutto esaurito all'interno del Palasport Martinese considerando che l'incasso è stato devoluto interamente in beneficenza da domani in casa New Basket Brindisi si inizia a pensare al campionato domenica prima giornata con i biancazzurri di scena a Verona contro la neopromossa Tezenis Grazie a tutti a tutti